Scriviamoci, ci sono tutti, vai! Eccolo qua, mattina a destra, match winner della serata, cosa hai provato subito dopo il gol? Una grande emozione, anche perché dopo due mesi di stop, comunque far gol a San Siro contro l'Inter è sempre un'emozione. Sono contento perché la squadra è arrivata in finale, quindi ce la metteremo tutta. A chi dedichi i gol? Lo dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a tutte le persone che mi sono state vicine durante i due mesi di stop. Adesso la Lazio in finale, che partita sarà? Già ve l'immaginate? Sarà una partita spettacolare sia per noi che per voi, quindi un derby in finale è sempre spettacolare. Mattia, è stata un po' una rivincita nei confronti dell'Inter, questa doppietta che poi porta la Roma in finale? Una rivincita no, perché io in prima squadra non ho mai giocato, non ho mai esordito con l'Inter, quindi ho fatto le giovanine all'Inter, però in prima squadra non ho mai giocato, quindi non vedo perché sia una rivincita. Mattia, calcisticamente sono i gol più importanti, sono la serata più importante della tua vita questa? Sicuramente fare i due gol e arrivare in finale, sì. Qual è adesso l'obiettivo? L'obiettivo è finire il campionato nel migliore dei modi e fare i più punti possibili, poi arriva questa partita e come ho detto prima è una partita a parte a sé che noi ce la metteremo tutta per vincere. Grazie. 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 Quello sicuro. Grazie.